Ezechiele capitolo quarantasettesimo Ezechiele capitolo quarantasettesimo Ezechiele capitolo quarantasetteimo C'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro Ed egli mi disse E tutto vivrà dovunque arriverà il torrente E dall'altro crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi Le cui foglie non appassiranno E il cui frutto non verrà mai meno Ogni mese faranno dei frutti nuovi Perché quelle acque escono dal santuario E quel loro frutto servirà di cibo E quelle loro foglie di medicamento Così parla il Signore l'Eterno Questa è la frontiera del paese Che voi spartirete come eredità Fra le dodici tribù di Israele Giuseppe ne avrà due parti Voi avrete ciascuno tutto L'uno quanto l'altro Una parte di questo paese Che io giurai di dare ai vostri padri Questo paese vi toccherà quindi in eredità E queste saranno le frontiere del paese Dalla parte di Setenzione Partendo dal Mar Grande In direzione di Hetlon Venendo da Zedad Hamat Berrotha Sibrain Che è fra la frontiera di Damasco E la frontiera di Amat Hester Atikon Che è sulla frontiera di Hauran E così la frontiera sarà dal mare Fino a Hatsar Enon Frontiera di Damasco Avendo a Setenzione Il paese setenzionale La frontiera di Amat Tale la parte di Setenzione Dalla parte d'Oriente Partendo da Fra Hauran e Damasco Poi di fra Galade Il paese di Israele Verso il Giordano Misurerete dalla frontiera di Setenzione Fino al mare orientale Tale la parte d'Oriente La parte meridionale Si dirigerà verso Mezzogiorno Da Tamar Fino alle acque di Meriboth Di Cades Fino al torrente Che va nel Mar Grande Tale la parte meridionale Verso Mezzogiorno La parte occidentale Sarà il Mar Grande Da quest'ultima frontiera Fino di faccia All'entrata di Amat Tale la parte occidentale Dividerete così Questo paese fra voi Secondo le tribù di Israele Ne spartirete a sorte Dell'otti di eredità Fra voi E gli stranieri Che vi soggiorneranno Fra voi I quali avranno generato Dei figliuoli Fra voi Questi Saranno per voi Come dei nativi Di tre figliuoli Di Israele Trarranno a sorte Con voi La parte dell'eredità In mezzo alle tribù Di Israele E nella tribù Nella quale Lo straniero Soggiorna Qui vi Gli darete La sua parte Dice il Signore L'Eterno Ezecchiele Capitolo Quarantottesimo E questi sono i nomi Delle tribù Partendo dall'estremità Settentrionale Lungo la via Di Etlor Per andare A Amath Fino Ad Asar E non Frontiera di Damasco A settentrione Verso Amath Avranno questo Dal confine orientale Al confine occidentale Dan Una parte Sulla frontiera di Dan Dal confine orientale Al confine occidentale Asher Una parte Sulla frontiera di Asher Dal confine orientale Al confine occidentale Neftali Una parte Sulla frontiera di Neftali Dal confine orientale Al confine occidentale Menasse Una parte Sulla frontiera di Menasse Dai confini d'oriente Al confine d'occidente Ephraim Una parte E sulla frontiera di Ephraim Dal confine orientale Al confine occidentale Ruben una parte. Sulla frontiera di Ruben, dal confine orientale al confine occidentale, Giuda una parte. E sulla frontiera di Giuda, dal confine orientale al confine occidentale, sarà la parte che preleverete di venticinquemila cubiti di larghezza e lunga come una delle altre parti del confine orientale al confine occidentale, e qui in mezzo sarà il santuario. La parte che preleverete per l'Eterno sarà venticinquemila cubiti di lunghezza e diecimila di larghezza, e questa parte sarà prelevata e apparterrà ai sacerdoti, venticinquemila cubiti di lunghezza al settentrione, diecimila di larghezza all'Occidente, diecimila di larghezza all'Oriente e venticinquemila di lunghezza al mezzogiorno, e il santuario dell'Eterno sarà qui vi in mezzo. Essa apparterà ai sacerdoti consacrati di tra i figlioli di Tzadok, che hanno fatto il mio servizio e non si sono sviati, quando i figlioli di Israele si sviarono come si sviavano i Leviti. Esso apparterà loro come parte prelevata dalla parte del paese, che sarà stata prelevata una cosa santissima verso la frontiera dei Leviti. I Leviti avranno parallelamente alla frontiera dei sacerdoti una lunghezza di venticinquemila cubiti e una larghezza di diecimila. Tutta la lunghezza sarà di venticinquemila e la larghezza di diecimila. Essi non potranno venderne nulla, questa primizia del paese non potrà essere né scambiata né alienata, perché è cosa consacrata all'Eterno. I cinquemila cubiti che rimarranno di larghezza sui venticinquemila formeranno un'area non consacrata destinata alla città per le abitazioni e per il contado. La città sarà in mezzo. Ed ecco le dimensioni. Dal lato settenzionale quattromila cinquecento cubiti, dal lato meridionale quattromila cinquecento, dal lato orientale quattromila cinquecento e dal lato occidentale quattromila cinquecento. La città avrà un contado di duecentocinquanta cubiti a settentrione, di duecentocinquanta a mezzogiorno, di duecentocinquanta a oriente e di duecentocinquanta a occidente. Il resto della lunghezza, parallelamente alla porta santa, cioè diecimila cubiti a oriente e diecimila a occidente, parallelamente alla parte santa, servirà coi suoi prodotti al mantenimento dei lavoratori della città. E i lavoratori della città e di tutte le tribù di Israele ne lavoreranno il suolo. Tutta la parte prelevata sarà di venticinquemila cubiti di lunghezza e di venticinquemila di larghezza. Ne preleverete così una parte uguale a un quarto della parte santa come possesso della città. Il rimanente sarà del principe e da un lato all'altro della parte sarà prelevata e dal possesso delle città di faccia ai venticinquemila cubiti della parte santa sino alla frontiera d'oriente e a occidente di faccia ai venticinquemila cubiti verso la frontiera d'occidente, parallelamente alle parti. Questo sarà del principe e la parte santa e il santuario della casa saranno in mezzo. Così, tolto nel possesso delle viti e il possesso della città situati in mezzo a quello del principe, cioè che si troverà fra la frontiera di Giuda e la frontiera di Beniamino, apparterà al principe. Poi verrà il resto delle tribù, dal confine orientale al confine occidentale, Beniamino una parte, sulla frontiera di Beniamino dal confine orientale al confine occidentale, Simeone una parte, e sulla frontiera di Simeone dal confine orientale al confine occidentale, Issacar una parte. Sulla frontiera di Issacar dal confine orientale al confine occidentale, Zabulon una parte. Sulla frontiera di Zabulon dal confine orientale al confine occidentale, Gad una parte. Sulla frontiera di Gad al lato meridionale verso mezzogiorno, giorno, la frontiera sarà da Temar fino alle acque di Meriba, di Cades, fino al torrente che va nel mal grande. Tale è il paese che voi spartirete a sorte come eredità della tribù di Israele, e tale ne sono le parti, dice il Signore l'Eterno, e queste sono le uscite della città, dal lato setenzionale quattro mila cinquecento cubiti misurati, le porte della città porteranno i nomi delle tribù di Israele, e ci saranno tre porte a settenzione, la porta di Ruben, l'una, la porta di Giuda, l'altra, e la porta di Levi, l'altra, dal lato orientale quattro mila cinquecento cubiti e tre porte, la porta di Giuseppe, l'una, la porta di Beniamino, l'altra, e la porta di Dan, l'altra, dal lato meridionale quattro mila cinquecento cubiti e tre porte, la porta di Simeone, l'una, la porta di Saccar, l'altra, e la porta di Zabulon, l'altra, e dal lato occidentale quattro mila cinquecento cubiti e tre porte, la porta di Gad, l'una, la porta di Asher, l'altra, e la porta di Neftali, l'altra. La circonferenza sarà di due ciotto mila cubiti, e da quel giorno il nome della città sarà, l'Eterno è quivi. Daniele capitolo primo Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucadnestar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la sediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli utensili della casa di Dio, e Nabucadnestar portò gli utensili nel paese di Sinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. E il re disse a Aspenaz, capo dei suoi enucchi, di menarli alcuni dei figlioli di Israele, di stirpe reale e di famiglie nobili, giovani senza difetti fisici, belli d'aspetto, dotati di ogni sorta di talenti, istruiti e intelligenti, tali che avessero attitudine a stare nel palazzo del re, e di insegnar loro la letteratura e la lingua dei caldei. Il re assegnò loro una porzione giornaliera delle vivande della mensa reale e del vino che egli beveva, e disse di mantenerli per tre anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Or, fra questi c'erano di tra i figlioli di Giuda, Daniele, Anania, Mishael e Azzaria, e il capo degli enucchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Belsazzar, a Anania Shedrach, a Mishael Meshach e a Azzaria Abednego. E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli enucchi di non obbligarlo a contaminarsi. E Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli enucchi. E il capo degli enucchi disse a Daniele, io temo il re mio signore, il quale ha fissato il vostro cibo e le vostre bevande, e perché vedrebbe egli il vostro volto più triste di quello dei giovani della vostra medesima età? Voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli enucchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Mishael e Azzaria, ti prego, fa coi tuoi servi una prova di dieci giorni, e ci siano dati dei legumi per mangiare e dell'acqua per bere. Poi si faccia vedere l'aspetto nostro e l'aspetto dei giovani che mangiano le vivande del re, e secondo quel che vedrai ti regolerai coi tuoi servi. Quegli accordò loro quanto domandavano, e li mise alla prova per dieci giorni, e alla fine dei dieci giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più grassi di tutti i giovani che avevano mangiato le vivande del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati, e dette loro dei legumi. E tutti questi quattro giovani i Dio dette conoscenza e intelligenza in tutta la letteratura e sapienza, e Daniele si intendeva ad ogni sorta di visioni e di sogni. E alla fine del tempo fissato dal re, perché quei giovani gli fossero menati, il capo degli annucchi li presentò a Nabucarnestà, e il re parlò con loro, e fra tutti quei giovani non se ne trovava alcuno che fosse come Daniele, Anania, Mishael e Azaria, e questi furono ammessi al servizio del re. E su tutti i punti che richiedevano sapienza e intelletto e sui quali il re li interrogasse, il re li trovava dieci volte superiori a tutti i maghi e gli astrologi che erano in tutto il suo regno. Così continuò Daniele fino al primo anno del re Ciro. Daniele capitolo secondo Il secondo anno del regno di Nabucarnestà, Nabucarnestà ebbe dei sogni. Il suo spirito ne fu turbato, e il suo sonno fu rotto. Il re fece chiamare i magi, gli astrologi, gli incantatori e i caldei, perché gli spiegassero i suoi sogni, ed essi vennero e si presentarono al re, e il re disse loro, ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il sogno. Allora i caldei risposero al re in aramico, o re, possa tu vivere in perpetuo, racconta il sogno ai tuoi servi, e noi ne daremo la interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei, la mia decisione è presa. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi, e le vostre casse saranno ridotti in tanti immondiziai. Ma se mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Quelli rispossero una seconda volta e dissero, Dica il re il sogno ai suoi servi, e noi ne daremo l'interpretazione. E il re replicò e disse, io m'accorgo che di certo voi potete guadagnare tempo, perché vedete che la mia decisione è presa. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, non c'è che un'unica sentenza per voi, e voi vi siete messi d'accordo per dire davanti a me delle parole bugiarde e perverse, aspettando che mutino i tempi. Perciò ditemi il sogno, e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. I caldei rispossero in presenza del re e dissero, Non c'è un uomo su tutta la terra che possa far conoscere quello che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande potente che fosse, il quale abbia domandato una cosa si è fatta a un mago, a un astrologo, o a un caldeo. La cosa che il re domanda è ardua, e non v'è alcuno che possa far conoscere al re tranne gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. A questo il re sadirò, montò in furia, e ordinò che tutti i savi di Babilonia fossero fatti perire. E il decreto fu promulgato, e i savi dovettero essere uccisi, e si cercava Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse in modo prudente e sensato a Rioc, capo delle guardie del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Prese la parola e disse a Rioc, ufficiale del re, Perché questo decreto così perentorio da parte del re? Allora Arioc fece sapere la cosa a Daniele, e Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo che avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò della cosa a Nania, Mishael e a Zaria, suoi compagni, perché implorassero la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. E Daniele benedisse il Dio del cielo, Daniele prese a dire, Sia benedetto il nome di Dio d'eternità in eternità, poiché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li stabilisce dalla sapienza ai savi e dà scienza a quelli che hanno intelletto. Egli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre la luce dimora con Lui. O Dio dei miei padri, io ti rendo gloria e lode, perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci la cosa che il re vuole. Daniele entrò quindi da Ariocca, cui il re aveva dato l'incarico di far perire i savi di Babilonia, entrò e gli disse così, Non far perire i savi di Babilonia, condusimi davanti al re e io darò al re l'interpretazione. Allora Ariocca menò in tutta fretta Daniele davanti al re e gli parlò così, Io ho trovato fra i giudei che sono in cattività un uomo che darà al re l'interpretazione. Il re prese a dire a Daniele che si chiamava Belsassar, Sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose in presenza del re e disse, Il segreto che il re domanda, né savi né incantatori né magi né astrologhi possano svelarlo al re. Ma ve nel cielo un Dio che rivela i segreti ed egli ne ha fatto conoscere al re Nabucadnestà quello che avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora innanzi e colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere quello che avverrà. E quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non per una sapienza che io possegga superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione ne sia data al re e tu possa conoscere quel che preoccupava il tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, che era immensa ed uno splendore straordinario, si riceva dinanzi a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro fino e il suo petto e le sue braccia s'eran fatte d'argento, il suo ventre e le sue cosce di rame, le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Tu stavi guardando quando ecco una pietra si staccò senza opera di mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora il ferro e l'argilla, il rame, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Oh, questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, al quale Dio del cielo ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. E dovunque rimorrono i figliuoli degli uomini, le bestie, la campagna e gli uccelli del cielo, egli ti li ha dati nelle mani e ti ha fatto dominare sopra essi tutti. La testa d'oro sei tu. E dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di rame che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma esso spezzerà via ogni cosa, e come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, ma vi sarà in lui qualche cosa della consistenza del ferro, già che tu hai visto il ferro mescolato con la molla e argilla, e come le dita dei piedi erano parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Tu hai visto il ferro mescolato con la molla e argilla, poiché quelli si mescolano mediante connubi di mani, ma non saranno uniti l'uno all'altro nello stesso modo che il ferro non s'amalgama con l'argilla, e al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non passerà sotto la dominazione di un altro popolo, quello spezzerà e annienterà tutti quei reami, ma esso sussisterà in perpetuo, nel modo che hai visto la pietra staccarsi dal monte senza opera di mani e spezzare il ferro, il rame, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re che deve avvenire d'ora innanzi. Il sogno è verace e l'interpretazione ne è sicura. Allora il re Nabucodistar cadde sulla faccia e si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero presentati offerte e profumi. E il re parlò a Daniele e disse In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il Rivelatore dei segreti, giacché tu hai potuto rivelare questo segreto, allora il re elevò Daniele in dignità e lo colmò di numerosi e ricchi doni e gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo stabilì capo supremo di tutti i savi di Babilonia. E Daniele ottenne dal re che Shedrach Meshech Abednego fossero proposti gli affari della provincia di Babilonia ma Daniele stava alla corte del re. Daniele capitolo terzo Il re da Bukarnetstar fece una statua d'oro alta sessanta cubiti e larga sei cubiti e la eresse nella pianura di Dura nella provincia di Babilonia e il re Nabukarnetstar mandò a radunare i satrappi i prefetti i governatori i giudici i tesorieri i giure consulti i presidenti e tutte le autorità delle province perché venissero alla inaugurazione della statua che il re Nabukarnetstar aveva eretta. Allora i satrappi i prefetti i governatori i giudici i tesorieri i giure consulti i presidenti e tutte le autorità delle province s'adunarono per l'inaugurazione della statua che il re Nabukarnetstar aveva eretta e stavano in piedi davanti alla statua che Nabukarnetstar aveva eretta e l'araldo gridò forte a voi popoli nazioni e lingue è imposto che nel momento in cui udrete il suono del corno del flauto e della scetra e della lira del saltore della zampogna e di ogni sorta di strumenti vi prostriate per adorare la statua d'oro che il re Nabukarnetstar ha eretta e chiunque non si prostrerà per adorare sarà immediatamente gentato in mezzo a una fornace di fuoco ardente non appena quindi tutti i popoli ebbero udito il suono del corno del flauto della scetra della lira del saltero ed ogni sorta di strumenti tutti i popoli tutte le nazioni e lingue si prostrarno e adorarono la statua d'oro che il re Nabukarnetstar aveva eretta allora in quello stesso momento alcuni uomini caldei si fecero avanti ed accusarono i giudei e rivolgendosi al re Nabukarnetstar gli dissero o re possa tu vivere in perpetuo tu o re hai emanato un decreto per il quale chiunque ha udito il suono del corno del flauto della cetra e della lira e del salto e della zampogna ed ogni sorta di strumenti deve prostrarsi per adorare la statua d'ora e chiunque non si prostra e non adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente or vi sono degli uomini giudei che tu hai proposti agli affari della provincia di Babilonia Shadrach Meshach e Abednego con questi uomini o re non ti tengono in alcun conto non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai eretta allora Nabucadnestà irritato e furioso ordinò che gli fossero menati Shadrach Meshach ed Abednego e quegli uomini furono menati in presenza del re e Nabucadnestà rivolgendosi a loro disse Shadrach Meshach Abednego lo fate deliberatamente di non servire i miei dei e di non adorare la statua d'oro che io ho eretto ora se non appena udrete il suono del corno del flauto della cetra della lira del saltere della zampogna ed ogni altra sorta di strumenti siete pronti a prostrarvi per adorare la statua che io ho fatto bene ma se non l'adorate sarete immediatamente gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani Shadrach Meshach e Abednego risposero al re dicendo o Nabucadnestar noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo ecco il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano o re se no sappi o re che noi non serviamo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto allora Nabucadnestar fu ripieno di furore e l'aspetto del suo viso fu mutato verso Shadrach Meshach e Abednego egli riprese la parola e ordinò che si accendesse la fornace sette volte più di quello che si era pensato di fare poi comandò ad alcuni uomini dei più vigoriosi del suo esercito di legare Shadrach Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace del fuoco ardente allora questi tre uomini furono legati con le loro tuniche e i loro sopravvestiti e i loro mantelli e tutti i loro vestiti furono gettati in mezzo alla fornace del fuoco ardente e siccome l'ordine del re era perentorio e la fornace era straordinariamente riscaldata la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato dentro Shadrach Meshach Meshach e Abednego e quei tre uomini Shadrach Meshach ed Abednego caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco ardente allora il re Nabuchadnezzar fu spaventato si levò in gran fretta e prese a dire ai suoi consiglieri non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco tre uomini legati quelli risposero e dissero al re certo o re ed egli riprese a dire ecco io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto danno alcuno e l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dei poi Nabuchadnezzar si avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente e prese a dire Shadrach Meshach Abednego servi dell'iddio altissimo uscite e venite e Shadrach Meshach ed Abednego uscirono di mezzo al fuoco e i setrappi e i prefetti e i governatori e i consiglieri del re essendosi adunati guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo che i capelli del loro capo non erano stati arsi che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano odore di fuoco e Nabuchadnezzar pese a dire benedetto sia l'iddio di Shadrach di Meshach e di Abednego il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e non adorare altro dio che il loro perciò io faccio questo decreto che chiunque o qualsiasi popolo o nazione o lingua appartenga di ramale dell'iddio di Shadrach Meshach ed Abednego sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta in un immondizzaio perché non ve' alcun altro dio che possa salvare in questo modo allora il re fece prosperare Shadrach Meshach ed Abednego nella provincia di Babilonia Daniele Capitolo Quarto Il re Nabucadnestar e tutti i popoli e tutte le nazioni e lingue che abitano sulla terra la vostra pace abbondi mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che l'idio altissimo ha fatto nella mia persona come sono grandi i suoi sogni come sono potenti i suoi prodigi il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione io Nabucadnestar stavo tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo ebbi un sogno che mi spaventò e pensieri che ammassillavano sul mio letto e le visioni del mio spirito m'empirno di terrore ordine fu dato da parte mia di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia perché mi facessero conoscere l'interpretazione del sogno allora vennero i magi gli incantatori i caldei gli astrologi e io dissi loro il sogno ma essi non poterono farmene conoscere l'interpretazione allora si presentò davanti a me Daniele che si chiama Belsazzar dal nome del mio Dio e nel quale lo spirito degli dei santi e io gli raccontai il sogno Belsazzar capo dei magi siccome io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun segreto te è difficile dimmi le visioni che ho avuto nel mio sogno e la loro interpretazione ed ecco le visioni della mia mente quando ero sul mio letto io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra la cui altezza era grande l'albero era cresciuto e diventato forte e la sua vetta giungeva al cielo e lo si vedeva dall'estremità di tutta la terra il suo fogliame era bello il suo frutto abbondante e c'era in lui nutrimento per tutti le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami ed ogni creatura si nutriva d'esso nelle visioni della mia mente quando ero sul mio letto io guardavo ed ecco uno dei santi veglianti scendere dal cielo gridò con forza e disse abbattete l'albero e tagliatene i rami scotetene il fogliame ed ispargetene il frutto fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami però lasciate in terra tra il ceppo delle sue radici ma in catene di ferro e di rame fra l'erba dei campi e sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte d'erba della terra gli sia mutato il cuore e invece di un cuore d'uomo gli sia dato un cuore di bestia e passino su di lui sette tempi la cosa è decretata dai veglianti e la sentenza emanata dai santi affinché i viventi conoscano che l'altissimo domina su tutto il regno degli uomini che gli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini questo è il sogno che io il re Nabucadnestà ho fatto e tu Belzazzar rimase per un momento stupefatto e i suoi pensieri lo spaventavano il re prese a dire Belzazzar il sogno e l'interpretazione non ti spaventino Belzazzar rispose e disse signor mio il sogno sa veri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari l'albero che il re ha visto e che era divenuto grande e forte la cuivetta giungeva al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra l'albero dal fogliame bello e dal frutto abbondante in cui era nutrimento per tutti e sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e fra i cui rami indimoravano gli uccelli del cielo sei tu o re tu che sei divenuto grande e forte e la cui grandezza si è accresciuta e giunge fino al cielo e il cui dominio si estende fino all'estremità della terra e quanto al santo vegliante che ha visto scendere dal cielo e che ha detto abbattete l'albero e distruggetevo ma lasciatene in terra il ceppo delle radici in catene di ferro e di rame fra l'erba dei campi e sia bagnato della rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna che che siamo passati e che siamo passati sopra di lui sette tempi ecco nell'interpretazione o re è un decreto dell'altissimo che sarà eseguito sul re mio signore tu sarai cacciato fra gli uomini e la tua dimora sarà come le bestie dei campi e ti sarà data a mangiare dell'erba come vuoi sarai bagnato dalla rugiada del cielo e passeranno su di te sette tempi finché tu non riconosca che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole e quanto all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il cielo domina perciò o re ti sia gradito il mio consiglio poni fine ai tuoi peccati con la giustizia e le tue iniquità con la compassione verso gli afflitti e forse la tua prosperità potrà essere prolungata tutto questo avvenne al re Nabucodonestà in capo a dodici mesi egli passeggiava nel suo palazzo reale di Babilonia il re prese a dire non è questa la grande Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e la gloria della mia maestà il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discesse dal cielo sappi o re Nabucodonestà che il tuo regno ti è tolto e tu sarai cacciato di tra gli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi e ti sarà data da mangiare dell'erba come vuoi e passeranno su te sette tempi finché tu non riconosca che l'altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole e in quel medesimo istante quella parola si adempì su Nabucodonestà egli fu cacciato di fra gli uomini mangiò erba come buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché il pelo li crebbe come le penne alle aquile e le ungue e le unghie come gli uccelli e alla fine di quei giorni io Nabucodonestà alzai gli occhi al cielo la regione mi tornò e benedissi l'altissimo e lo dai e glorificai colui che vive in eterno il cui dominio è un dominio perpetuo e il cui regno dura di generazione in generazione tutti gli abitanti della terra sono da lui reputati un nulla egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra e non v'è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli che fai in quel tempo la ragione mi tornò la gloria del mio regno la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti e i miei consiglieri i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu accresciuta più che mai ora io Nabucodonestà lodo esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie è giustizia ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente Daniele capitolo quinto il re Belsassar fece un gran convito a mille dei suoi grandi e beve del vino in presenza dei mille e Belsassar mentre stava assaporando il vino ordinò che si recassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonestà suo padre aveva portati via dal tempio di Gerusalemme perché il re e i suoi grandi le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere allora furono recati i vasi d'oro che erano stati portati via dal tempio della casa di Dio che era in Gerusalemme e il re i suoi grandi le sue mogli e le sue concubine se ne servirono per bere bevero del vino e lo darono gli dei d'oro d'argento di rame di ferro di legno e di pietra e in quel momento apparvero delle dita d'una mano d'uomo che si misero a scrivere di faccia al candelabro sull'intonaco della parete del palazzo reale e il re vide quel mozzicone di mano che scriveva allora il re mutò di colore e i suoi pensieri lo spaventarono le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e i suoi ginocchi cominciarono a urtarsi l'un contro l'altro e il re gridò forte che si facessero entrare gli incantatori i caldei gli astrologi e il re presi a dire ai savi di Babilonia chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà rivestito di porpora avrà al collo una collana d'oro e sarà terzo nel regno mio allora entrarono tutti i savi del re ma non poterono leggere lo scritto né dare al re l'interpretazione allora il re Balsazzar fu preso da grande spavento mutò di colore e i suoi grandi furono costernati la regina come ebbe udite le parole del re e dei suoi grandi entrò nella sala del convito e la regina presi a dire oh re possa tu vivere in perpetuo i tuoi pensieri non ti spaventino e non mutar di colore c'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi e al tempo di tuo padre si trovò in lui una luce e un intelletto e una sapienza pari alla sapienza degli dei e il re Nabucadnezzar tuo padre il padre tuo o re lo stabilì capo dei magi degli incantatori dei caldei e degli astrologi perché in lui in questo Daniele a cui il re aveva posto nome Belsazzar fu trovato uno spirito straordinario conoscenza intelletto facoltà di interpretare i sogni e di spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione allora Daniele fu introdotto alla presenza del re e il re parlò a Daniele e gli disse sei tu Daniele uno dei giudei che il re mio padre menò in cattività da Giuda io ho sentito dire di te che lo spirito degli dei è in te e che in te si trova luce intelletto e una sapienza straordinaria ora i savi e gli incantatori sono stati introdotti alla mia presenza per leggere questo scritto e per farne conoscere l'interpretazione ma non hanno potuto darmi l'interpretazione della cosa però ho sentito dire di te che tu puoi dare l'interpretazione e risolvere questioni difficili ora se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione tu sarai rivestito di purpura e avrai al collo una collana d'oro e sarai terzo nel regno del mio governo allora Daniele prese a dire in presenza del re tienti i tuoi doni e da un altro le tue ricompense non di meno io leggerò lo scritto al re e gliene farò conoscere l'interpretazione o re l'addio altissimo aveva dato a nebucadnezzar tuo padre regno grandezza gloria e maestà e a motivo della grandezza che egli gli aveva dato tutti i popoli tutte le nazioni e lingue temevano e temevano alla sua presenza egli faceva morire chi voleva lasciava in vita chi voleva innalzava chi voleva e abbassava chi voleva ma quando il suo cuore divenno altero e il suo spirito si indurò fino a diventare arrogante fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolta la sua gloria fu cacciato di tra i figlioli degli uomini il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie e la sua dimora fu con gli asini selvatici gli fu data a mangiare dell'erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato della rugiada del cielo finché non riconobbe che l'iddio altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole e tu o bel sassar suo figliolo non hai umiliato il tuo cuore quantunque tu sapessi tutto questo ma ti sei innalzato contro il signore del cielo ti sono stati portati davanti i vasi della sua casa e tu e i tuoi grandi e le tue moglie e le tue concubine vi siete serviti per bere e tu hai lodato gli dei d'argento d'oro di rame di ferro di legno e di pietra i quali non vedono non odono non hanno conoscenza di sorta e non hai glorificato lì Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e da cui dipendono tutte le tue vie perciò è stato mandato da parte sua quel mozzicone di mano che ti ha tracciato questo scritto questo è scritto che è stato tracciato mene mene tekel ufarsin e questa è l'interpretazione delle parole mene Dio ha fatto il conto del tuo regno e vi ha posto fine tekel tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante peres il tuo regno è diviso e dato ai media e persiani allora per ordine di Belsassar Daniele fu rivestito di porpora e gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato che egli sarebbe terzo nel governo del regno e in quella stessa notte Belsassar il re dei caldei fu ucciso e Dario il medio riceve il regno all'età di sessantadue anni Daniele capitolo sesto parve bene a Dario di stabilire sul regno centoventi satrapi i quali fossero per tutto il regno e sopra questi tre capi uno dei quali era Daniele perché questi satrapi rendessero loro conto e il re non avesse a soffrire alcun danno or questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario e il re pensava di stabilirlo soprattutto il regno allora i capi e i setrapi cercarono di trovare un'occasione da accusare Daniele circa l'amministrazione del regno ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché gli era fedele e non c'era da trovare in lui alcunché di male o da riprendere quegli uomini dissero dunque noi non troviamo occasione alcuna ad accusare questo Daniele se non la troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio allora quei capi e quei satrapi vennero tumultuosamente presso al re gli dissero o re Dario possa tu vivere in perpetuo tutti i capi del regno i prefetti i satrapi i consiglieri i governatori si sono concertati perché il re promulghi un decreto e pubblichi un severo divieto per i quali chiunque entro lo spazio di trenta giorni rivolgerà qualche richiesta a qualsiasi voglia Dio o uomo trarne che a te o re si è gettato nella fossa dei leoni ora o re promulga il divieto e firma nell'atto perché sia immutabile conformemente alla legge dei medi e dei persiani che è irrevocabile e il re Dario quindi fermò il decreto e divieto e quando Daniele seppe che il decreto del re era fermato entrò in casa sua tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchi e pregava e rendeva grazie al suo Dio come se voleva fare per là dietro allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che faceva richieste e supplicazioni al suo Dio poi si accostarono al re e li parlarono del divieto reale non hai tu fermato un divieto per il quale chiunque entro lo spazio di trenta giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia Dio o uomo tranne che a te o re deve essere gettato nella fossa dei leoni e il re rispose e disse la cosa è stabilita conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani che è irrevocabile allora quelli ripressero a dire in presenza del re Daniele che è fra quelli che sono stati menati in cattività da Giuda non tiene in alcun conto né te o re né il divieto che tu hai firmato ma prega il suo Dio tre volte al giorno quando ebbe udito questo il re ne fu dolentissimo e si mise in cuore di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo ma quegli uomini vennero tumultuosamente al re e gli dissero sappio re che è legge dei Medi e dei Persiani che nessun divieto decreto promulgato dal re possa essere mutato allora il re diede l'ordine e Daniele fu menato e gettato nella fossa dei leoni e il re parlò a Daniele e gli disse l'iddio tuo che tu servi del continuo sarà quelli che ti libererà e fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa e il re la sigillò col suo anello e con l'anello dei suoi grandi perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele allora il re se ne andò al suo palazzo e passò la notte in digiuno e non fece venire alcuna concubina e il sonno fuggì da lui poi il re si levò la mattina di buon'ora appena fu giorno e si recò in fretta alla fossa dei leoni e come fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce dolorosa e il re prese dire a Daniele Daniele servo del Dio vivente il tuo Dio che tu servi del continuo ti hai potuto liberare dai leoni allora Daniele disse al re o re possa tu vivere in perpetuo il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni che non mi hanno fatto alcun male perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto e anche davanti a te o re non ho fatto alcun male allora il re fu ricolmo di gioia e ordinò che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa e Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta perché s'era confidato nel suo Dio e per ordine del re furono menati fuori degli uomini che avevano accusato Daniele e furono gettati nella fossa del leone essi e i loro figliuoli e le loro moglie e non erano ancora giunti in fondo alla fossa che le ori furono loro addosso e fiaccarono loro tutte le ossa allora il re Dario scrisse a tutti i popoli e a tutte le nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra la vostra pace abbondi io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'iddio di Daniele poiché egli è l'iddio vivente che sussiste in eterno e il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra egli è quel che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni e questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario e sotto il regno di Ciro il persiano Daniele capitolo settimo il primo giorno di Belsazzar e di Babilonia Daniele mentre era a letto fece un sogno ed ebbe delle visioni nella sua mente poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose Daniele dunque prese a dire io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo e quattro grande bestie salirono dal mare una diversa dall'altra la prima era come un leone ed aveva delle ali d'aquila io guardai finché non le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo ed ecco una seconda bestia simile a un orso essa rizzavasi sopra un lato aveva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto levati mangia molta carne dopo questo io guardavo ed ecco un'altra simile a un leopardo che aveva addosso quattro ali di uccello questa bestia aveva quattro teste e le fu dato il dominio dopo questo io guardavo nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventevole terribile straordinariamente forte aveva dei denti grandi di ferro e divorava e sbranava e calpestava il resto coi piedi era diversa da tutte le bestie che l'avevano preceduta e aveva dieci corna io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò fra quelle e tre nelle prime corna furono diverte dinanzi ad esso ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili ad occhi d'uomo e una bocca che proferiva grandi cose io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e un vegliardo s'assise la sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza mille migliaia lo servivano e decimila mirriadi gli stavano davanti il giudizio si tenne e i libri furono aperti allora io guardai a motivo delle parole orgogliose che il corno proferiva guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso quanto alle altre bestie il dominio fu loro tolto ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figliuolo d'uomo egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui ed egli furono dati dominio gloria e regno perché tutti i popoli tutte le nazioni e lingue lo servissero il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto quanto a me Daniele il mio spirito fu torbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono ma costai a uno degli astanti e gli domandai la verità intorno a tutto questo ed egli mi parlò e mi diette l'interpretazione di queste cose queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno sulla terra poi i santi dell'altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre d'eternità in eternità allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia che era diversa da tutte le altre e straordinariamente terribile che aveva i denti di ferro e le unghie di rame che divorava e sbranava e calpestava il resto coi piedi e intorno alle dieci corna che aveva in capo e intorno all'altro corno che spuntava e davanti al quale erano cadute tutte e tre e quel corno che aveva degli occhi e una bocca proferente cose grandi e che appariva maggiore delle altre corna io guardai e quello stesso corno faceva guerra ai santi e aveva il sopravvento finché non giunse il vegliardo e il giudizio fu dato ai santi dell'altissimo e venne il tempo che i santi possederanno il regno ed egli mi parlò così la quarta bestia è il quarto regno sulla terra che differirà da tutti i regni divorerà tutta la terra la calpesterà la frantumerà le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo quelli ne sorgirà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re egli proferirà parole contro l'altissimo ridurrà allo stremo i santi dell'altissimo e penserà di mutare i tempi e la legge i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà d'un tempo poi si terrà un giudizio e gli sarà tolto il dominio gli verrà distrutto e annientato per sempre e il regno e il dominio e la grandezza dei regni che sono stati sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'altissimo il suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serviranno e gli obbidiranno qui finirono le parole rivoltimi quanto a me Daniele i miei pensieri mi spaventarono molto e mutai di colore ma serbai la cosa nel cuore Daniele capitolo ottavo il terzo anno del regno del re Belsazar io Daniele ebbi una visione dopo quella che avevo avuta al principio del regno ero in visione e mentre guardavo ero a Susan la residenza reale che è nella provincia di Elam e nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai alzai gli occhi guardai ed ecco ritto davanti al fiume un montone che aveva due corna e le due corna erano alte ma una era più alta dell'alta e la più alta veniva sull'ultima e vidi il montone che cozzava a occidente e a settenzione a mezzogiorno nessuna bestia gli poteva tener fronte e non c'era nessuno che la potesse liberare dalla sua potenza esso faceva quel che voleva e diventò grande e come io stavo considerando questo ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo e questo capro aveva un corno con spicuo fra i suoi occhi esso venne fino al montone dalle due corna che avevo visto ritto davanti al fiume egli si avventò contro col furore della sua forza e lo vidi giungere vicino al montone pieno di rabbia contro di lui investirlo e spezzargli le due corna il montone non ebbe la forza di tenerli fronte e il capro lo atterrò e lo calpestò e non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dalla potenza adesso e capro diventò sommamente grande ma quando fu potente il suo gran corno si spezzò e in luogo di quello sorsero quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo e da luna d'esse uscì un piccolo corno che diventò molto grande verso mezzogiorno verso levante e verso il paese splendido si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò se levò anzi fino al capo dell'esercito gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto l'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese poi udì un santo che parlava e un altro santo disse quello che parlava fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la ribellione che produce la desolazione abbandonando il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati ed egli mi disse fino a 2300 sere e mattina poi il santuario sarà purificato e avvenne che mentre io Daniele avevo questa visione e cercavo di intenderla ecco starmi ritta davanti come una gran figura d'uomo e udì la voce dell'uomo in mezzo a Lulai che gridò e disse Gabriele spiega a lui la visione ed esso venne presso al luogo dove io stavo alla sua venuta io fui spaventato e caddi sulla mia faccia ma egli mi disse intendi bene o figlio d'uomo perché questa visione concerne il tempo della fine e come egli mi parlava io mi lasciai andare con la faccia a terra profondamente assopito ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi e disse ecco io ti farò conoscere quello che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione perché si tratta del tempo fissato per la fine il montone con due corna che tu hai veduto rappresenta il re di media e di persia il becco peloso è il re di grecia il gran corno fra i suoi due occhi è il primo re quanto al corno spezzato a cui posto ne sono sorti quattro questi sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione ma non con la stessa sua potenza e alla fine del loro regno quando i ribelli avranno colmato la misura della loro ribellione sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi la sua potenza sarà grande ma non sarà potenza sua egli farà prodigiose rovine prospererà nelle sue imprese e distruggerà i popoli i potenti e il popolo dei santi a motivo della sua astuzia farà prosperare la frode delle sue mani e si inorgoglierà in cuor suo e in piena pace distruggerà molta gente insorgerà contro il principe dei principi ma sarà infranto senza opera di mano e la visione delle sere delle mattine di cui è stato parlato è vera tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano e io Daniele svenni e fui malato vari giorni poi malsai e feci gli affari del re io ero stupito dalla visione ma nessuno se ne avvide Daniele capitolo nono nell'anno primo di Dario figliuolo da suero della stirpe dei medi che fu fatto re del regno dei caldei il primo anno del suo regno io Daniele meditando sui libri vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovine era di settant'anni e volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle supplicazioni col digiuno col sacco e con la cenere e feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno al mio Dio dicendo oh Signore e Dio grande e tremendo che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che tamano e osservano i tuoi comandamenti noi abbiamo peccato ci siamo condotti iniquamente abbiamo operato malvagiamente ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni non abbiamo dato ascolto ai profeti i tuoi servi che hanno parlato in tuo nome ai nostri re ai nostri capi ai nostri padri a tutto il popolo del paese a te oh Signore la giustizia a noi la confusione della faccia come avviene al di d'oggi agli uomini di Giuda agli abitanti di Gerusalemme a tutto Israele vicini e lontani in tutti i paesi dove li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesse contro di te oh Signore a noi la confusione della faccia ai nostri re ai nostri capi ai nostri padri perché abbiamo peccato contro di te al Signore che il nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno dell'Idio nostro per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva poste d'innanzi mediante i profeti suoi servi sì tutto Israele ha trasredito la tua legge si è sviato per non ubbidire alla tua voce e così su noi si sono riversate le maledizioni e imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè servo di Dio perché noi abbiamo peccato contro di Lui ed Egli ha mandato ad effetto le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri giudici che ci governavano facendo venire su noi una calamità così grande che sotto tutto il cielo nulla mai è stato fatto di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme come scritto nella legge di Mosè tutta questa calamità ci è venuta addosso e non di meno non abbiamo implorato il favore dell'Eterno del nostro Dio ritraendoci dalle nostre iniquità e rendendoci attenti alla sua verità e l'Eterno ha avegliato su questa calamità ce l'ha fatta venire addosso perché l'Eterno il nostro Dio è giusto in tutto quello che ha fatto ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce ed ora o Signore il Dio nostro che traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti il nome che hai oggi noi abbiamo peccato abbiamo operato malvagiamente o Signore secondo tutte le tue opere di giustizia fatti prego che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme il tuo monte santo poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano ora dunque o Dio nostro ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni e far risplendere il tuo volto sul tuo desolato santuario per amore del Signore oh mio Dio inclina il tuo orecchio e ascolta apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto fondati non sulle nostre opere giuste ma sulle tue grandi compassioni oh Signore ascolta Signore perdona Signore sia attento ed agisci non indugiare per amore di te stesso mio Dio poiché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo mentre io parlavo ancora pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo d'Israele e presentavo la mia supplicazione all'eterno al mio Dio per il monte santo per il mio Dio mentre stavo ancora parlando in preghiera quell'uomo Gabriele che avevo visto nella visione da principio mandato con rapido volo si avvicinò a me verso l'ora dell'oblazione della sera e mi ammaestrò mi parlò e disse Daniele io sono venuto ora per darti intendimento al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita e io sono venuto a comunicartela poiché tu sei grandemente amato fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione settanta settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare le trasgressioni e per mettere fine al peccato per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo sappilo dunque e intendi dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare gerusalemme fino all'apparire di un unto di un capo vi sono sette settimane e in settantadue settimane est sarà restaurata e ricostruita piazze e mura ma in tempi angosciosi dopo le settantadue settimane un unto sarà soppresso nessuno sarà per lui e il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario e la sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno delle devastazioni fino alla fine della guerra egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore e questo finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore Daniele capitolo decimo il terzo anno di Ciro re di Persia una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belzatzar e la parola è verace e predice una gran lotta egli capì la parola ed ebbe l'intelligenza della visione in quel tempo io Daniele feci cordoglio per tre settimane intere non mangiare alcun cibo prelivato né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unzi affatto sino alla fine delle tre settimane e il ventiquattresimo giorno del primo mese come io mi trovavo in riva al gran fiume che è Loideckel e alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino con intorno ai fianchi una cintura d'oro d'ufaz il suo corpo era come un crisolito la sua faccia aveva l'aspetto della folgore i suoi occhi erano come fiamme di fuoco le sue braccia e i suoi piedi parevano terzo rame e il suono della sua voce era come il rumore d'una moltitudine io sono Daniele vidi la visione gli uomini che erano meco non la videro ma un gran terrore piombò su loro e fuggirono a nascondersi e io rimasi solo ed ebbi questa grande visione in me non rimase più forza al mio viso mutò colore fino a rimanere sfigurato e non mi restò alcun vigore udì il suono delle sue parole e all'udire il suono delle sue parole caddi profondamente assopito con la faccia a terra ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani e mi disse Daniele uomo grandemente amato cerca di intendere le parole che ti dirò e rizzati in piedi nel luogo dove sei perché ora io sono mandato da te e quando egli mi ebbe detta questa parola io mi rizzai in piedi tutto tremante ed egli mi disse non temere Daniele poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere di umiliarti nel cospetto del tuo Dio le tue parole furono udite e io sono venuto a motivo delle tue parole ma il capo del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni però ecco Micael uno dei primi capi è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia ed ora sono venuto a farti comprendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni perché è ancora una visione che concerne l'avvenire e mentre egli mi rivolgeva queste parole io abbassai gli occhi al suolo e rimasi muto ed ecco uno che aveva sembianza di un figliol d'uomo mi toccò le labbra allora io aprì la bocca parlai e disse a colui che mi stava davanti Signor mio a motivo di questa visione mi ha colto lo spasimo e non mi è più rimasto alcun vigore e come potrebbe questo servo dal mio Signore parlare accotesto Signor mio poiché ormai nessun vigore mi resta e mi manca fino il respiro allora colui che aveva la sembianza dell'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò e disse o uomo grandemente amato non temere la pace siateco sii forte sii forte e quando egli ebbe parlato meco io ripresi la forza e dissi il mio Signore parli pure poiché tu mai fortificato ed egli disse sai tu perché io sono venuto da te ora me ne torno a combattere col capo della Persia e quando io uscirò a combattere ecco che verrà il capo di Yavan ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità e non v'è nessuno che mi sostenga contro quelli là Daniele capitolo undicesimo nessuno v'è nessuno che mi sostenga contro quelli là tranne mica è il vostro capo e io il primo anno di Dario il Medo mi tendi presto di lui per sostenerlo e difenderlo ed ora ti faccio conoscere la verità ecco sorgiranno ancora in Persia tre re poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri e quando sarà diventato forte per le sue ricchezze e solleverà tutti contro il regno di Yavan allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà quel che vorrà ma quando sarà sorto il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo esso non apparirà alla progenie di lui ne avrà una potenza pari a quella che aveva lui giacché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri non ai suoi eredi e il re del mezzogiorno diventerà forte ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui e dominerà e il suo dominio sarà potente e alla fine di vari anni essi faranno lega assieme e la figliola del re del mezzogiorno verrà al re del settenzione per fare un accordo ma essa non potrà conservare la forza del proprio braccio né quelli e il suo braccio potranno resistere e lei e quelli che l'hanno condotta e colui che l'ha generata e colui che l'ha sostenuta per un tempo saranno dati alla morte e uno dei rampolli delle sue radici sorgerà a prendere il posto di quello esso verrà all'esercito entrerà nelle fortezze del re del settenzione verrà le prese con quelle e rimarrà vittorioso e menerà anche in cattività in Egitto i loro dei con le loro immagini fuse e con i loro preziosi arredi d'argento e d'oro e per vari anni li terrà lungi dal re del settenzione e questi marcerà contro il re del mezzogiorno ma tornerà nel proprio paese e i suoi figlioli entreranno in guerra e raduneranno una moltitudine di grandi forze l'undessi si farà avanti si spanderà come un torrente e passerà oltre poi tornerà e spingerà l'ostilità fino alla fortezza del re del mezzogiorno il re del mezzogiorno si nasprirà e si farà dinnanzi e muoverà guerra a lui al re del settenzione il quale arrotolerà una gran moltitudine ma quella moltitudine sarà data in mano del re del mezzogiorno la moltitudine sarà portata via e il cuore di lui si inorgoglierà ma per quanto ne abbiamo abbattuto delle decine di migliaia non sarà per questo più forte e il re del settenzione arrotolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima e in capo a un certo numero d'anni egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale e in quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno e degli uomini violenti di fra il tuo popolo insorgeranno per dar compimento alla visione ma cadranno e il re del settenzione verrà innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata e nelle forze del mezzogiorno nelle truppe scelte avranno la forza di resistere e quelli che sarà venuto contro di lui farà ciò che gli piace non essendovi chi possa stargli a fronte e si fermerà nel paese splendido il quale sarà interamente in suo potere e gli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno ma farà un accomodamento con il re del mezzogiorno e gli darà la figliola per distruggere il regno ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte ma un generale farà cessare lo proprio che gli voleva infliggerli e lo farà ricadere addosso a lui poi il re si dirigerà verso le fortezze del proprio paese ma inciamperà cadrà e non lo si troverà più poi in luogo di lui sorgerà uno che farà passare un esattore di tributi attraverso il paese che è la gloria del regno ma in pochi giorni sarà distrutto non nell'ira né in battaglia poi in luogo suo sorgerà un uomo spregevole a cui non sarà stata conferita la maestà reale ma verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di lusinghe e le forze non inonderanno il paese saranno sommerse davanti a lui saranno infrante come pure un capo dell'alleanza e nonostante la lega fatta con quest'ultimo agirà con frode salirà e diverrà vittorioso con poca gente e senza rumore invaderà le parti più grasse della provincia e farà quello che non fecerò mai nei suoi padri nei padri dei suoi padri distribuirà bottino spoglie e beni e mediterà progetti contro le fortezze questo per un certo tempo poi accoglierà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno e mediante una grande esercito e il re del mezzogiorno si impegnerà in guerra con una grande e potentissimo esercito ma non potrà tener fronte perché si faranno delle macchinazioni contro di lui quelli che mangeranno alla sua mensa saranno la sua rovina il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi e quei due re cercheranno in cuor loro di farsi del male e alla stessa mensa si diranno delle menzogne ma ciò non riuscirà perché la fine non verrà che al tempo fissato e quegli tornerà al suo paese con grandi ricchezze il suo cuore formerà dei disegni contro al patto santo ed egli li eseguirà poi tornerà al suo paese al tempo stabilito egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima poiché delle navi di Chiting muoveranno contro di lui ed egli si perderà d'animo poi di nuovo si indignerà contro il patto santo ed eseguirà i suoi disegni e tornerà ad intendersi con quelli che l'avevano abbandonato il patto santo delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario la fortezza sopprimeranno il sacrificio continuo e vi cologheranno un'abominazione che cagiona la desolazione e per via di lusinghe corromperà quelli che agiscono ampiamente contro il patto ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà e i servi fra il popolo ne istruiranno molti ma saranno abbattuti dalla spada e dal fuoco dalla cattività e dal saccheggio per un certo tempo e quando saranno così abbattuti saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto ma molti si uniranno a loro con finti sembianti e di quei savi ne saranno abbattuti alcuni per affinarli per purificarli per imbiancarli sino al tempo della fine perché questa non avverrà che al tempo stabilito e il re agirà a suo talento si estollerà si magnificherà di sopra ad ogni Dio e proferirà cose inaudite contro l'iddio degli dei prospererà finché l'indignazione sia esaurita poiché quello che è decretato si compirà egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri non avrà riguardo né alla divinità favorita delle donne né alcun Dio poiché si magnificherà al di sopra di tutti ma onorerà l'iddio delle fortezze del suo luogo di culto onorerà con oro con argento con pietre preziose con oggetti di valore un Dio che i suoi padri non conobbero ed agirà contro le fortezze ben munite aiutato da un Dio straniero quelli che lo riconosceranno egli ricolmerà di gloria e li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompense e al tempo della fine il re del mezzogiorno verrà accorso con lui e il re del settenzione gli piomberà addosso come la tempesta con carri e cavalieri e con molte navi e penetrerà nel paese e tutto inondato passerà oltre ed entrerà pure nel paese splendido e molte popolazioni saranno abbattute ma queste scamperanno dalle sue mani Edom Moab e una parte del principale dei figliuoli di Amon egli stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese d'Egitto non scamperà e si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto e Libi e gli Etiopi saranno del suo seguito ma notizie dall'Oriente e dal settenzione lo spaventeranno ed Egli partirà con gran furore per distruggere e votare lo sterminio molti e pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e sul bel monte santo poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto Daniele capitolo dodicesimo e in quel tempo sorgerà Micael il gran capo il difensore dei figliuoli del tuo popolo e sarà un tempo d'angoscia quale non se be mai da alcun quando esistono nazioni fino a quell'epoca e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna e gli altri per lo proprio per un'eternità di infamia e i saveri splenderanno come lo splendore della distesa e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno e tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà poi io Daniele guardai ed ecco due altri uomini in piedi l'uno di uno sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda del fiume e l'un desi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume quando sarà la fine di queste meraviglie ed io udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume il quale alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo per dei tempi e per la metà di un tempo e quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta allora tutte queste cose si compiranno e io udì ma non compresi e dissi signore mio quale sarà la fine di queste cose ed egli rispose va Daniele poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine molti saranno purificati imbiancati affinati ma gli empi agiranno impiamente e nessuno degli empi capirà ma capiranno i savi e dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo e sarà rizzata l'abominazione che cagiona la desolazione vi saranno 1290 giorni beato chi aspetta e giunge al 1335 giorni ma tu avviati verso la fine tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte della realtà fino alla fine dei giorni